La politica ha fatto obiezione di coscienza e quando accade questo parlano solo le armi, parlano i signori della guerra. Incontro con il deputato Arturo Scotto nella sede del Partito Democratico a Lanciano per parlare del nuovo conflitto scoppiato in Medio Oriente. E oggi nel conflitto tragico medio orientale sembra che non ci sia nessuna strada possibile per la diplomazia. D'altra parte, nonostante le Nazioni Unite finalmente dopo cinque mesi siano riusciti a votare nel Consiglio di Sicurezza lo stop alle armi, il cessate il fuoco, il governo di Netanyahu di Israele ha fatto finta di nulla. Serve un'azione più energica della comunità internazionale. Serve che le armi ad Israele non arrivino per evitare che continua questa strage di palestinesi che ormai è arrivata a 34.000 morti e si riapra una prospettiva possibile dopo le macerie di questi anni per la pace, per la sicurezza Israele e per il diritto dei palestinesi a avere uno Stato. Pubblico attento è coinvolto dal racconto dei numerosi viaggi dell'onorevole Scotto in qualità di osservatore del PD e con la missione delle ONG italiane al barco di Rafà, frontiera internazionale tra l'Egitto e la striscia di Gaza. Occorre intanto far arrivare gli aiuti umanitari. Ci sono tra 1.500 e 2.000 camion bloccati. Si tratta di pacchi di riso, di cibo e scatola, di medicinali, di coperte, di tende, di acqua potabile. Se non c'è un cessato il fuoco immediato i rischi epidemiologici sono drammatici e come sappiamo nella storia dell'umanità più delle bombe uccidono le malattie. La striscia di Gaza è un lembo di terra, quattro volte più piccola della città di Roma dove vivono 2 milioni e mezzo di persone. C'è un livello di promiscuità terribile e non ci sono più strutture sanitarie e strutture a disposizione delle agenzie per i rifugiati. Occorre fermare il conflitto innanzitutto per questo. L'incontro è stato il primo di una serie organizzata dalla segreteria cittadina del PD per aprire le porte della sede alla cittadinanza. Noi abbiamo detto dall'inizio che la reazione di Israele ai tragici e terribili e ingiustificabili fatti del 7 ottobre era fuori dal seminato del diritto internazionale. Abbiamo fatto votare in Parlamento un cessato il fuoco che è passato grazie all'iniziativa del PD. Pensiamo che l'Italia debba essere in prima fila per la pace, per il disarmo e per il riconoscimento dello Stato di Palestina.